... Sembra che piano piano stiamo tornando abbiamo fatto un brutto primo tempo nonostante se fossimo andati in vantaggio come al solito ci sta succedendo in questo periodo prendiamo dei gol da striscia allo striscione dal programma di Canale 5 perché veramente sembra una barzelletta però abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo secondo me siamo vivi qualcuno ci dava già per morto invece no, siamo vivi sono convinto che piano piano risaliremo la china tra l'altro infatti gol che stanno arrivando soprattutto nei finali che sia il primo tempo o il secondo tempo cosa può essere? Cali di concentrazione? Sì, ma a parte quello è soprattutto non un calo di concentrazione un calo di attenzione che è diverso soffriamo un pochettino per paura di portare a casa il risultato commettiamo degli errori perché purtroppo in questo momento innegabile è una squadra che viene da sei partiti, cinque pareggi una sconfitta quindi non è un buon periodo tanti episodi negativi oggi altrettanto lo ripeto però io ho avuto la sensazione che nel secondo tempo stiamo tornando alla squadra che per due mesi ha fatto benissimo Qualificazione dunque ancora aperta? Assolutissimamente lo sapevamo a prescindere dal risultato di oggi che chi si sarebbe giocata comunque è nei 180 come abbiamo visto anche oggi questa è una squadra immediatamente in testa alla classifica perché è una squadra molto solida nonostante mancasse pure qualche calciatore ci aspetta sicuramente una partita di ritorno difficile ma lo usava anche per loro